Prevenzione dalle Dolomiti, stiamo scendendo da quota 2000, abbiamo fatto circa 4-5 ore di camminata con visita al lago, Brunella di Le Malghette e tanto altro, con anche una piccola variazione che ci ha fatto perdere. Glicemia sempre attorno a Plinio, 97, uno spettacolo, ho ridotto l'insulina quasi dell'80% pur avendo mangiato un bel gelato XXL con integrazione di zucchero e volevamo dire che oltre che questi luoghi sono veramente magici perché riescono a darti addirittura un senso di mistico, volevamo fare un pizzico di prevenzione ad alta quota, prevenzione diagnostica perché il diabete di tipo 1 non si previene ma neppure si attacca, non lo si trasmette, non è per nulla invalidante. Il diabete di tipo 1, la sintomatologia del diabete di tipo 1 all'esordio, carissimo Plinio, è tanta pipì, tanta sete al lito fruttato. Perciò se rivolgendosi al nostro pediatra potrebbe in qualche modo essere tratto un inganno da qualsiasi altra credenza riguardo questa sintomatologia, aiutiamolo a rimetterlo nella giusta strada perché tanta sete, tanta pipì e aiuto che sta di frutta potrebbe indicare il diabete di tipo 1 all'esordio. Mai più a nessuno. Ciao ciao!